c'è stata la notizia della raccolta fondi record io ne ho parlato anche in generale anche un paio di volte sia su video dedicato a nft che oggi al cripto monday cioè 600 quant'è 680 milioni di serie b mamma mia un record in francia anche proprio sì sì infatti considerate che ho visto che l'azienda soreire adesso è valutata più di 4 miliardi di dollari 4.3 mi sembra e quindi parliamo di un bell'unicorno sapete quando una società viene quotata più di un miliardo capitalizza più di un miliardo è definita unicorno quando parte da una start up in italia non ce n'è ancora mai stata una nella storia giusto per dirvi e soreire in francia ce n'è più ce n'è stata più di una soreire una di queste a questo punto vale 4 miliardi e hanno raccolto 680 solo nella raccolta fondi nell'ultima stanno crescendo tanto eh sì sì molto cioè se pensiamo anche solamente a quando siamo partiti noi a fare live sembrava impossibile nel giro di comunque qualche mese alla fine c'è una cosa una cosa pazzesca comunque ci sta sì sì certo poi oltre oltre a questo la cosa che possiamo vedere appena dopo sono appunto queste 50 star del calcio sì sì andiamo a vedere spingono molto anche su twitter proprio ora vediamo vediamo qui prendiamo l'articolo da medium dove viene viene spiegato anche il funzionamento e il meccanismo perché a differenza di alcune carte come come non so erano uscite in precedenza gli allenatori o c'era non so becam queste carte qui con queste si potrà giocare se poi anche con le vecchie non lo so però con le legends sicuramente si potrà giocare eh innanzitutto questi sono i giocatori presi in considerazione quindi vediamo casiglia scannavaro beckenbauer zanetti eh i primi come i primi sì 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 sono tutti questi sono i primi e sono tutti cioè campioni arriviamo a scevchenko van basten ronaldo anche abbiamo visto in diverse versioni cioè per esempio ronaldo non ci sarà solo la versione del psv ma ce ne saranno diverse ed il anche queste carte adesso sono sono giocabili quindi ci saranno le special weekly dedicate dove si potranno schierare solo giocatori leggende e prenderanno il voto del giocatore col voto più alto della squadra di riferimento quindi chi fa giocare ronaldo con la maglia del psv prenderà il voto del giocatore con il voto più alto del psv chi farà giocare cannavaro che in questo momento in vendita cannavaro mercato eccolo qui cannavaro con la maglia della juve prende il voto del giocatore più alto della juve come dice sì di original del ruolo che diceva del ruolo sì 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 della juve in quel ruolo chiaramente cioè cannavaro non prende il voto di dibada o di nel ruolo certo giusto giusta per lui ultimamente sì sì quindi per fortuna che non c'è non c'è non c'è buffon come vecchia gloria anche se in realtà ma chissà perché vabbè che gioca ancora quindi gioca ancora buffon adesso però è segnato con la crocetta rossa credono perché fuori dalle competizioni io ve lo dico finché non mettono totti non me le compro vabbè ebbè totti iniziamo a dacci dacci uno spoiler totti come te lo prendi te lo prendi unico super raro raro capito unico penso che ci voglia un bel po andiamo a vedere i prezzi giusto per capire perché mi sembrava di vedere un po di gialle adesso c'era cannavaro proprio che andava comunque via fino al messi della scorsa settimana quindi non è che sia proprio una cosa comunque la prima del prima del fenomeno è stata una bella vendita abbastanza non l'ho seguito a quanto è andato mi sembra se non sbaglio qualche tirio è andato anche quella gialla ma gialla proprio anche gialla e anche rossa comunque sei e tiri un forse sei o sette tiri considerando che anche qui sono già arrivati alla trentunesima e gialla non giocabile a meno che non c'è fino a che non ci sarà la special weekly dedicata comunque 400 euro sì sì sono prezzi comunque vabbè guarda ce ne sono ancora ci sono arrivati già da 50 alla sessantesima e oltre e comunque i prezzi sono sì vediamo sono sui 400 euro tutte questa di meno però non so arriverà mentre invece le rare stanno già sui 1000 100 1000 eh sì 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 tra l'altro devo dire che la diciamo la grafica di quella rara è bellissima un po' milanista però bellissima e questa è una trovata di marketing fantastica perché oltre a raccogliere tantissimo con ulteriori carte che vanno ambientare loro con questi influencer del calcio queste star che comunque twittano del gioco vanno a parlare del gioco magari lo ripostano instagram non lo so fanno ulteriore pubblicità a tutto non è che sono personaggi che hanno poco seguito questi comunque diciamo che se vi comprate la carta di sforza non potete dire che quella di cronaggio era finita che ce ne sono tante tornando in ottica gioco sapete che poi mi piace molto la dinamica di gioco effettivamente al di là poi del fatto che ronaldo sia stato uno dei giocatori più forti in assoluto di tutti i tempi secondo me è anche più utile nel gioco perché effettivamente tu prendi la statistica del migliore attaccante del psv che comunque in campionato olandese è una di quelle squadre che a meno che non gioca contro l'ajax va bene magari invece quest'anno cannavaro se prende la statistica del difensore migliore della juve non è che stiamo andando benissimo quindi in ottica gioco parlo proprio di gioco ci sta che ronaldo costi un po di più è stata inserita la rookie la rookie league e sembra essere permanente quindi questa secondo me è una notità positiva e magari qui un po le possiamo anche discutere perché effettivamente tutti coloro che forse avevano anche abbandonato perché i prezzi erano saliti giustamente in alcuni casi perché noi quando noi abbiamo iniziato a parlare gennaio febbraio il gioco era anche accessibile bisognava comunque investirci quel qualcosina ai tempi parlavamo di un etere un etere era 400 500 euro potrei sbagliarmi verso gennaio mi sembra che erano quelli prezzi e ce la si faceva una discreta squadra sì sì con 3 400 euro di controvatore riuscivi già mettere in campo cinque carte portiere incluso però nonostante tutto c'era chi vedeva una barriera d'ingresso magari faceva la parte iniziale partecipava alla rookie le prime partite dove poteva schierare le sue common che aveva preso gratuitamente non era arrivata a premio quindi la sua rara neanche era mai riuscita a prenderla e non se la sentiva di investire in un gioco che magari non avrebbe portato un futuro rosio come stiamo vivendo adesso che ha visto che magari le cose non andate bene i prezzi sono quintuplicati e quindi a maggior ragione diceva bene l'ho fatto prima non lo faccio più adesso è tosta quindi invece reinserire una rookie per me va in questa direzione riprendere parte delle persone che hanno abbandonato il gioco cercare di riprendere chi si è allontanato per questo motivo qua vediamo 56 mila formazioni qui con tutti quanti che prendono premio cioè nel senso i primi tre prendono la rara da lì in poi star tier 1 tier 2 common ma tutti prendono la carta quindi poi questo da una parte a lungo termine porta porterà comunque una grandissima inflazione di carte common che hanno poco senso però intanto le prendi d'altro canto però come leggevo anche un commento in chat per esempio sempre di dimitro che diceva tutti questi prezzi alti non penalizzano l'entrata di nuovi utenti adesso che gli utenti sanno che possono entrare giocare gratis e continuare a giocare gratis senza timidi finché i prezzi non si calmano trovano budget finché non gli girano lo so attira attira di nuovo perché ragazzi pensate voi magari andate da un amico e gli dita c'è sto gioco fichissimo così così tutto quanto è proprio una squadra buona ci vuole un millino cioè chi non è che abbiamo tutti il millino per no no soprattutto chi non è nel mondo cripto perché comunque c'è anche la barriera di conversione ci sono tante cose ci sono tante non solo non solo quella dei soldi e quindi magari qualcuno che riesce a entrare giocare gratis capire un po poi magari anche una persona che non ha niente a che fare con le grip inizia a vedere ok ethereum nft che roba è quindi rimane comunque affezionato vabbè che me ne frega gioco gratis fai tornei con gli amici un sacco di carteggio alla lunga ti viene la voglia è certo poi mettici che comunque cioè se arrivi tra i primi tre una rara la prendi magari nel lungo periodo se non hai diciamo il budget per investire puoi investire nel tempo nella certo ci vuole anche fortuna perché le persone sono tante quindi arrivare tra 56 mila tra i primi tre capisco che è un'impresa epica d'altronde è gratis ciao 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 ciao